Sindacati in piazza per protestare contro il blocco dei lavori di ripristino e ammodernamento di Edellandia e il Parco Giochi di Napoli che dopo numerose vicende era riuscito a ripartire grazie ad una nuova proprietà, ripartenza stoppata dal no della soprintendenza ai beni culturali che deve vagliare i vincoli d'insieme pendenti sulle aree. Intanto i numerosi lavoratori si trovano costretti ad ulteriori mesi di attesa. Oggi nei pressi del Palazzo Reale dove a sede la soprintendenza si sono riuniti gli aderenti al sindacato Wilcom. Ascoltiamo il segretario Massimo Taglialatela. La duratativa per l'assegnazione di Edellandia è durata oltre un anno. Troviamo paradossale che dopo un anno si sia arrivati ad oggi all'inizio dei lavori per evidenziare l'esistenza di vincoli architettonici. Io credo che la burocrazia in questo paese debba fare una parte diversa. Noi chiederemo a Giorgio Cozzolino di dare risposte in tempi sceleri. Non è possibile che dopo un anno di trattativa tra Regione, Comune, Camera di Commercio, Mostro d'Oltremare e gli imprenditori all'inizio dei lavori nescono questi vincoli. CGL riunitasi invece dinanzi ai cancelli del parco tematico. Stessa storia ancora lavoratori in attesa di vincoli burocratici che impediscono il normale svolgersi della fatica quotidiana e la riapertura di un luogo simbolo della città. Ai nostri microfoni il segretario CGL SLC Napoli, Gialuca Daniele, e il presidente della decima municipalità, Giorgio De Francesco. Stamattina serve prima di tutto a rafforzare l'idea nostra di rilanciare il parco tematico dell'Edelandia e di creare in quest'area che è nevralgica per la città un'idea di sviluppo in cui cultura e turismo possono rappresentare veramente una grande opportunità. L'altra grande questione è quella dei lavoratori. Ci sono 55 famiglie che rischiano nel momento in cui scade la cassa integrazione a fine maggio di avere seri problemi di sostentamento. Con il rilancio dell'Edelandia deve ripartire il rilancio dell'intera area occidentale che deve comprendere poi il nuovo stadio San Paolo, il nuovo palazzetto dello sport, la riqualificazione di tutta l'area che arrivi poi fino al rilancio di Bagnoni. E per ribadire che c'è una serie di preoccupazioni per il livello occupazionale. 55 lavoratori, come è stato appena ricordato, a maggio risgraderà la cassa integrazione e non possiamo permettere che aspetti burocratici, seppur importanti, blocchino il rilancio di quest'area e blocchino soprattutto la volontà di imprenditori seri che hanno intenzione di investire in questo territorio.